e beh ragazzi sono il gilberga sono qui oggi a portarvi come di consueto come ogni settimana la soluzione delle sfide appunto che ci fornisce fortnite premetto che rega se volete la mappa completa la potete trovare tranquillamente tra le storie mie di instagram quindi potete seguirmi qua sotto vi ricordo anche che se condividete il video mandatemi lo screen in dire che vi inizio a seguire su fortnite se non li vedete questi video qua ai vostri amici ovviamente ultima cosa rica cerchiamo di arrivare a facciamo 60 likes in modo tale che io ogni settimana ve le porto e voi vi fate le vostre sfide tranquillamente allora oggi vi mostro quelli che sono le cinque posizioni che ho trovato degli spara piattelli io ne ho trovati 5 fatemi sapere qua sotto nei commenti se ne avete trovate altre io vi mostro quelle che ho trovato dire che possiamo partire quindi ok rega la prima che potete trovare la trovate tranquillamente fuori place and park come vi sto indicando qua esattamente è vicino alla casa dietro la casa quella fuori present park poi ce n'è un'altra qua proprio al limite riga al limite della mappa è molto fuori dalla zona è vicino a quello che io e il mio team chiamiamo sedia poi c'è un'altra qua vicino al ponte tra risky rails ovvero rapide rischiose e quella che è che è borgo bislacco poi c'è un'altra rega qua fuori loot lake come vi sto indicando esattamente adesso poi rega ce n'è ancora una che ho trovato fuori paradise palm si la chiamo così non so come la chiamate voi comunque probabilmente la chiamerete palmetto paradisiaco però il nome italiano mi fa schifo quindi la pronuncio così perché mi piace di più comunque fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete avuto problemi o no direi che potete lasciare un bel like se ci becchiamo direttamente nel prossimo video bella ragazzuoli ciao